rendita 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 oggi torniamo a parlare di quella che è il mondo della defai nel settore cripto perché andiamo a lavorare sui nostri cr o ormai seguiamo questo token da un sacco di tempo e soprattutto nel ultimo video qualche mesetto fa forse un annetto fa ragazzi vi ho fatto vedere come andare a mettere il cero in rendita sulla defai wallet di cripto.com ma un mesetto fa circa un po di più li ho tolti perché con l'avvento di cronos quindi la chain dedicata alla defai di cripto.com ci sarebbero state una serie di servizi e quindi volevo avere i miei cero svincolati proprio per decidere poi cosa andare a fare soprattutto anche realizzare nuovi video bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video andiamo a vedere dove andare a mettere a rendita il cero come dove perché quando perché è stata lanciata una settimana fa la piattaforma di landing e borrowing di cronos che è tectonic andiamo a vedere che cosa stanno facendo quali sono gli incentivi soliti incentivi che ci sono quando lanciano queste piattaforme e un po facciamo il briefing di cosa va fatto quindi un po il tutorial appunto come mettere il cero quanta è la vera percentuale di rendimento che possiamo andare a ottenere poi però andiamo più nel dettaglio andare ad verificare quelli che sono i famosi costi ragazzi perché lo specchietto per le allodole abbiamo fatto un video del genere quando è nata la bsc vi ricordate magari qualcuno di voi quando abbiamo parlato di venus come andare a staccare in quel caso abbiamo messo mi pare di th poi abbiamo preso in in leva usd e l'abbiamo messo insomma vi rifaccio vedere tutti i processi oggi però memore della con la questione legata alla bsc oggi invece andiamo a vedere quelli che sono i veri problemi di questo tipo di logica e con le pguai stellare cioè i costi impliciti che ci sono che poi riducono questo rendimento che si vede diciamo sullo schermo un rendimento atteso ma poi non è quello nella realtà che andremo ad avere allora andiamo a fare un po tutti i calcoli cosa conviene fare cosa non conviene fare qual è la migliore strategia per utilizzare il cro su tectonic che cosa ho fatto io tutti i test tutti i costi impliciti e badabam 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 bamba va bene e se ancora non l'avete fatto ragazzi iscrivetevi al canale perché così insomma mi seguite mi date una mano soprattutto con i pollicioni allora ragazzi ok ci siamo allora partiamo intanto dalla questione legata a tectonic la semplice piattaforma di landing and borrowing che verrà utilizzata da kronos è nata da una decina di giorni circa più o meno una settimana quindi in questo momento ci sono dei grandi incentivi all'utilizzo della piattaforma sia per quanto riguarda la questione di utilizzare il landing che poi è quello che ci interessa perché noi andremo a mettere in effetti sul landing poi i nostri cr o però in questo caso loro incentiveranno anche il borrowing proprio per nella parte iniziale quindi farvi utilizzare la piattaforma interessante ovviamente ricordatevi i rischi di questi tipi di piattaforme ragazzi quando fanno queste cose quando incentivano l'uso della piattaforma lo fanno perché in un certo quel modo è come se partecipiamo a una specie di beta test cioè noi prestiamo un po la nostra liquidità a quelle che sono le nostre somme loro magari ci restituiscono qualche rendimento nel frattempo testano un po la piattaforma e soprattutto se ci sono degli hack dei bug o tutto quello che ne viene fuori ragazzi noi diciamo ciao ciao a tutto quello che abbiamo messo dentro quindi è un po un contratto implicito tra l'azienda in questione e noi quindi noi prestiamo il denaro loro ci restituiscono il rendimento però accettiamo il rischio di una piattaforma nata da poco che ovviamente è molto più rischiosa di qualsiasi piattaforma che sta in essere insomma da da tanto tempo perché perché ancora magari la struttura informatica potrebbe non essere così stabile quindi questa è la questione vi faccio vedere come si presenta la piattaforma da desktop ovviamente facilissimo da utilizzare da mobile ragazzi che secondo me è la soluzione migliore e soprattutto devo essere sincero nell'ambito di cronos la ritengo veramente la killer feature cioè è il fatto che sia tutto sviluppato sullo smartphone rende questo tipo di operazioni estremamente più semplici molto diverse dalla questione che era avvenuta su venus quando la bsc bsc è stata diciamo un po la chain iniziale che ha dato il la a questo sviluppo che abbiamo visto in questo annata quindi oggi vi faccio vedere quella comunque sul desktop perché mi viene più facile registrare il video ma io ho fatto tutta l'operazione di messa a lending dei miei cr o l'ho fatto esclusivamente sullo smartphone quindi sull'iphone benissimo andiamo ora direttamente nella parte tutorial mettiamo a rendita i cr o e vi faccio vedere anche dei video che ho registrato diciamo sulla sull'iphone vi faccio vedere però anche quello che ho fatto direttamente in dashboard altrimenti ci perdiamo poi andiamo ad applicare la famosa strategia di prendere a prestito e mettere a collaterale i nostri cr o per prenderci a prestito delle stable coin la stessa cosa che avevamo fatto su venus tempo ormai or sono però questa volta in maniera più consapevole andiamo a capire ne vale veramente la pena ad utilizzare questo tipo di strategia e soprattutto quali sono i costi impliciti ragazzi e vi assicuro resterete stupiti perché la stessa cosa è successa poi su venus ecco perché questa volta andiamo diciamo a fare i conti un pochettino più nel dettaglio allora il cr o in questo momento viene dato un epy per quanto riguarda la supply che è quello che faremo noi del 9 per cento in cr o e del 15 e 57 che scende diciamo in pratica in continuazione dato dalla distribuzione del token tonic che è quello appunto della piattaforma tectonic il token in questione ragazzi come tutti i token di queste piattaforme crolla in maniera inesorabile anzi vi faccio vedere già l'andamento perché perché tutti lo utilizzano per fare il farm e dump del token questa cosa è da considerare quindi quando andiamo a vedere le p le p guai perché queste di guai qui di 15 e qualcosa è stato calcolato in questo istante con il prezzo di tonic che è quello insomma che vedete qui per esempio quando eravamo nel 24 decisamente più alto il prezzo vedete che crollo che ha avuto maniera abbastanza consistente questi tipi di token essenzialmente ragazzi sono così quindi è vero che noi qui vediamo il 15 però state tranquilli che questo 15 per cento non sarà mantenuto per troppo tempo quindi bisogna anche sempre andare al di là di quelli che sono poi questi specchietti per le allodole andare a vedere quale può essere in effetti un rendimento adeguato che noi stiamo cercando anche perché ragazzi il CRO messo nella precedente DeFi wallet quindi non su Cronos lasciato in staking rendeva più o meno intorno al 13 per cento di CRO attenzione però ragazzi ok quindi con tutto quello che era connessa alla questione che il CRO poi potrebbe anche salire eccetera qui invece abbiamo un rendimento vero quindi di CRO che è di 9 punti percentuali quindi più basso questo distribuzione del token tonic in questo momento è ghiotta ragazzi però noi dobbiamo sperare che non scenda mai probabilmente sotto il 5 secondo me sotto il 5 per cento non scenderà perché andrebbe poi a essere troppo basso rispetto a quello originario del DeFi wallet quindi mi aspetto che questo livello vada a scendere ma mai sotto il 5 per cento poi andremmo a vederlo adesso alcuni di voi magari potrebbero dire benissimo io in questo momento metto tutto in lending su tectonic poi vado a vendermi il token tonic facendo appunto il farm and dump questa cosa non è del tutto così semplice perché perché dipende da quanti money andate a sganciare sulla piattaforma perché se andate a mettere 4 spicci scusatemi il termine i 1000 dollari 2000 dollari ma anche vi farò vedere che io ne ho messi 10.000 quindi vi faccio vedere anche come è impossibile fare il farm and dump con piccole somme 10.000 sono piccole somme ragazzi per queste piattaforme perché perché il claim del token tonic costa tantissimo quindi andare a fare il claim del token ci costerà 6-7 cro che in questo momento ha un costo abbastanza importante ragazzi quindi noi possiamo fare questo farm and dump dopo x giorni quindi state tranquilli che un mesetto dentro ci dovete stare al token tonic quindi farmate oggi ma poi il token vi crolla e quindi le PY non è assolutamente quello che vedete in piattaforma sarà sensibilmente inferiore ma io mi aspetto che anche dopo la vendita eventualmente non possa scendere al di sotto del 5% il gioco è più questo PY resta alto più tempo resta alto più noi andiamo a creare maggiore rendimento sui nostri cro rispetto a dove eravamo prima cioè la piattaforma normale vi faccio vedere la mia supply in questo momento sono 16.000 che passa cro ragazzi quelli che vedete qui in questo momento il mio net PY è del 29 e 22 perché ragazzi qui interviene un gioco simpaticissimo che ha fatto tectonic perché dopo aver messo in supply i miei cro e aver creato un rendimento di più o meno il 22 per cento circa ragazzi 22 23 per cento con considerando appunto quello che vi ho detto sul token tonic ho anche fatto la richiesta di mettere a collaterale il cro per prendermi in prestito usdc ora tectonic in questa fase vi paga anche se prendete in prestito la i token ragazzi è strano però è così proprio perché vogliono incentivare anche e l'uso del borrowing non soltanto quello della della supply quindi del lending ragazzi e questo è molto rilevante perché se andiamo a vedere la questione io ho fatto anche la prova con dai ragazzi poi l'ho ripagato anche questo per vedere le commissioni ve lo dico francamente ho fatto proprio un borro e poi proprio i pay subito non so perché mi ha lasciato questi questi insomma i minuzie qui e quindi lo ritroviamo non ho capito quindi ancora ma probabilmente c'è un po di difficoltà sull'uso di questa piattaforma però vedete gli usdc in questo momento io sto pagando per il borrowing 3.89 per cento ma mi danno il 14 e 15 in tectonic ancora una volta ragazzi questo percentuale va a confluire qui dentro che sono il mio tonic balance l'ho fatto oggi quindi ne ho quasi un migliaio questo sale di continuo ma il token tonic come vi ho fatto vedere vale veramente pochissimo in dollari quindi in sostanza ragazzi non ci ripaghiamo neanche le commissioni se io dovesse andare ora a fare il claim vi faccio vedere poi perché ho fatto le registrazioni tutti i costi quando parliamo della parte costi se io adesso vado a fare il claim dei tonic mi costa un botto di cro e quindi questo mi rende l'operazione assolutamente impossibile dovrò attendere almeno un mesetto nel frattempo questa epiguai continuerà a scendere probabilmente perché qui dentro ho sia l'epiguai della supply di cro sia questo pezzettino di differenziale sui 5000 dollari che ho preso in lending va bene ragazzi allora fin qui ci siamo ora andiamo a vedere la questione costi e perché e chiediamoci se conviene o meno fare il borrowing di queste somme andando a prenderci più capitale che poi dobbiamo utilizzarlo perché in questo caso ci stanno pagando è vero ragazzi però noi andiamo a pagare la piattaforma in token usdc e poi la piattaforma tectonic ci ripaga in tonic quindi c'è un po la questione perché perché loro si prendono usdc che sappiamo non oscilla mentre il tonic si oscilla ragazzi quindi è vero che mi dicono ti pago il 14 per cento adesso però io quando andrò a vendere il token tonic probabilmente varrà la metà di quanto magari l'ho venduto quindi dovevo andare a fare attenzione perché se durante questo mese 60 giorni magari in cui io faccio questo tipo di operazione ricordatevi che le operazioni in defy ragazzi devono essere fatti per almeno un mese 60 giorni ma in questo caso che ci sono gli incentivi altrimenti non serve a niente andate solo a pagare commissioni questo tipo di operazioni a livello di investing vengono fatte per tempi molto lunghi ragazzi quindi non brevi se io sto 60 giorni dentro il token tonic riesce a sostenere un determinato livello di prezzo che mi ripaga il prestito allora avrò anche guadagnato dalla prendere a presto i token ragazzi altrimenti bisognerà andare a fare poi i conti questo purtroppo non è possibile farlo andiamo a vedere un po i costi anzi vi faccio vedere tutta la questione legata al video durante appunto lo swap che stavo facendo che l'ho fatto insomma e vi ho registrato per farvi vedere appunto i costi che ci sono su tutte queste commissioni che CRO vado ad applicare poi c'è un giochino sullo swap importantissimo va bene ragazzi allora vi faccio vedere questa cosa allora intanto bisogna ho dovuto spostare i miei CRO sulla chain CRO perché io li avevo ancora nel vecchio wallet quindi già qui c'è una piccola operazione però per esempio le commissioni in questo caso come vedete sono veramente bassissime quindi proprio insomma centesimi ragazzi di CRO quindi veramente veramente molto basse dopodiché sono andato nella piattaforma di Tectonic e cliccando appunto sullo CRO ho messo in supply i miei CRO quindi ecco qui CRO adesso vi faccio vedere la questione legata alla prima commissione cioè quello di mettere i supply e qui ci siamo è un CRO.16 che è una commissione accettabile anche perché poi abbiamo comunque quel tipo di APY quindi va bene fare una cosa del genere andiamo però a vedere l'altra questione legata al swap, alla claim scusate dei tonic appunto per farvi vedere come il claim dei tonic che vado a guadagnare sono veramente costosissimi eccolo qua ragazzi allora questi erano i tre tonic che avevo guadagnato in pochi minuti facendo la prova appunto per il claim mi richiede una transazione con 6.37 CRO che in questo momento sono più o meno a 0.64 dollari quindi sono 3-4 dollari ora sembra poco però non è così ragazzi perché questi 3-4 dollari devono essere recuperati poi in termini di rendimento quindi se io vado a fare il claim dei tonic velocemente ogni giorno non recupererò mai questi costi perché da un investimento anche di questa cifra che comunque sono 10.000 dollari vi faccio vedere un po' quanto è il rendimento più o meno guadagniamo se si mantiene questo tasso del 14-15% di tonic guadagniamo 3-4 dollari di tonic al giorno quindi io ragazzi per andare a fare il claim dovrò aspettare almeno una decina di giorni altrimenti vado a dimezzare in pratica le PY soltanto con le fee quindi intanto ricordatevi che le fee sono fisse in questo caso quando andate a fare il claim dei tonic per cui io ho usato un capitale di 10.000 dollari se voi andate a utilizzare 1000 dollari probabilmente le fee incidono in maniera pesantissima e quindi siete bloccati per un mese in sostanza ragazzi questo farm and dump non si può fare in maniera costante si può fare ogni 10 giorni almeno quindi considerate questa cosa e in 10 giorni le oscillazioni di un token come il tonic saranno abnormi quindi questo PY va tenuto sotto stretta osservazione ok a questo punto proviamo a utilizzare anche la questione di mettere il CRO a collaterale e ci prendiamo i USDC per come ho fatto i ragazzi quindi vi faccio vedere esattamente questa operazione qui che ho messo in atto e vi faccio vedere che anche questo ha ulteriori costi ma poi ce n'è uno in particolar modo ragazzi allora il concetto è io prendo questi USDC in questo momento Tectonic ci paga però poi che ci faccio allora devo metterli in rendita da un'altra parte perché se proviamo a metterli in rendita su Tectonic non ce li fa mettere ovviamente in rendita sulla stessa coin cioè non posso prendere in prestito USDC e metterli in lending sempre su USDC ovviamente non me lo fa fare e c'è un motivo per questo mi lo fa fare se io li sguoppo prima quindi devo andare a fare lo sguop sulla piattaforma di CRO su Kronos sguoppare in un'altra stable coin e metterli poi in rendita per esempio in DAI allora questa cosa sembra un giochino fantastico in realtà non lo è perché lo sguop da USDC a DAI ha un costo implicito molto molto alto che rende la questione praticamente inutile ragazzi vi faccio vedere insomma anche questo costo implicito ok ragazzi allora io qui avevo già i miei 5000 USDC li ho presi in prestito poi sono andato a testare vedete lo sguop e passando da USDC a DAI adesso mi calcolerà la piattaforma il quanti DAI io ottengo con 5000 USDC e già vedete che praticamente i DAI si sono ridotti di gran lunga perché praticamente perdo 84 dollari in sostanza nel fare questa operazione ma non è finita qui ragazzi perché poi io provo anche a fare il contrario perché qualcuno potrebbe dire benissimo ma è il cambio da USDC che è minore non è così ragazzi perché poi quando andiamo a fare per esempio il cambio al contrario cioè quando ripasserò i miei DAI a USDC quindi ho invertito in pratica me ne danno ancora di meno quindi perdo altri 10 dollari in sostanza questo tipo di operazione di sguappare USDC a DAI mi costa quasi un centone ragazzi cioè mi costa un abisso rispetto alla questione legata per esempio al rendimento perché ragazzi? perché il rendimento messo poi in DAI sarebbe intorno a 15% più o meno circa adesso rivedo un pochettino anche perché scende un po' allora in questo momento sarebbe 4 su DAI più 11-15% appunto teorico però io vado a perdere oltre il 2% in una sola operazione ragazzi oltre il 2% quindi mi servirà più o meno due mesi per recuperare le mie commissioni di swap in pratica soltanto due mesi sempre che il tonic si mantenga a questi livelli e poi forse domani eccetera con una semplice operazione del genere magari riesco a guadagnare qualcosa insomma ragazzi è completamente inutile fare questa cosa quasi quasi conviene di più fare semplicemente il borrowing e tenerseli lì fin tanto che ci pagano qualcosina in più dopodiché chiudere il borrowing oppure la soluzione migliore è andare a inserire ulteriore liquidità quindi andare a raddoppiare la cifra in questo caso quindi altri 5.000 USDT in questo caso e poi metterli al 22% su WWS Finance cioè creare l'LP token eccetera anche lì 22% di token WWS quindi ok però già questo un po' più senso ce l'ha ragazzi quindi il prestito è la collaterale del CRO per prenderci le stable coin e poi andarle a rimettere su Tectonic secondo me non ha assolutamente senso vi faccio anche vedere la tabella che ho creato proprio sui costi eccola qui ragazzi allora questa è la tabella dei vari costi che io ho sostenuto per fare questo tipo di operazioni e perché appunto questi sono i costi totali dell'investimento della parte della leva quindi se andiamo a utilizzare la leva e non mi sono piaciuti molto proprio per questo sono enormi soprattutto dovuto ai costi di swap che mi pesano per 96 USDC quindi tantissimo su 5.000 USDC ragazzi ok proprio veramente veramente tanti non oso immaginare i costi fissi come possano impattare su capitali più piccoli 100 dollari, 200 dollari è assolutamente inutilizzabile secondo me una cosa del genere con piccoli capitali quindi il time to break even dell'investimento quindi solo per recuperare questo costo ci mettevo 50 giorni ragazzi andando a metterlo in staking su DAI ovviamente qui è considerato anche il fatto che io dopo l'ingresso dovrò anche riuscire a ripagare il debito quindi è turnaround questo tipo di costo oppure only DAI rewards perché only DAI rewards cioè soltanto i rewards che mi viene pagato in DAI non la plusvalenza data in tonic che probabilmente scenderà pesantemente nei prossimi giorni ci vorrebbero 6 mesi solo per pagare le commissioni quindi in sostanza ragazzi la cifra giusta di giorni che ci vogliono per ripagarmi da questo costo sarà tra 180 e 50 più o meno 90 giorni 100 perché da una parte il token tonic mi varrà dato dall'altra si svaluterà quindi non avrò 180 giorni ma non ne avrò neanche 50 quindi probabilmente staremo a metà 3 mesi solo per ripagare il costo in un'operazione del genere più il rischio di essere liquidato se il CRO va giù e tutte le problematiche che può avere una piattaforma di DeFi nuova assolutamente no questo tipo di operazione la stessa problematica avevamo avuto su Menus quando è stata lanciata la BSC quindi soluzione definitiva a i miei CRO i miei CRO staranno in staking scusate in lending su Tectonic come vi ho fatto vedere eccoli qui ragazzi quindi staranno in lending in questo momento accumulerò il token tonic ogni 10 barra un mesetto lo dampo quindi lo vado a vendere e lo dampo e mi faccio i calcoli se riesco a ottenere di più del detenere al 13% i miei CRO semplicemente sulla vecchia piattaforma che però avevano il vincolo di un mese per essere svincolati siccome io odio i vincoli lo sapete ormai allora mi piace di più e poi anche per testare piattaforma nuova vediamo che cosa ne otteniamo per la parte borrowing in questo momento la tengo attiva probabilmente quello che farò è andrò a raddoppiare quindi metterò altri 5000 USDT per fare un liquidity un LP su WWS e andarli a mettere lì quindi faremo una cosa più complessa ma di questo magari appena lo faccio poi ne parliamo in un altro video va bene ragazzi allora abbiamo chiuso questo super tutorialone riproviamo una nuova piattaforma di Kronos e vediamo i CRO quanto rendimento ci vanno a generare ma soprattutto vi ho spiegato come vanno effettivamente analizzate queste piattaforme e i trucchetti che utilizzano per farvi vedere un API altissimo specchietto per le allodole che poi però ragazzi nella vita cioè nella realtà ok nella vita reale non è quello che ci sarà proprio per una serie di costi impliciti che vanno a inserire ragazzi nessuno regala niente i soldi non crescono diciamo dagli alberi e ovviamente questo tipo di piattaforme non è che sono truffe è giusto che facciano queste cose perché si devono finanziare quindi loro vi dicono io ti faccio usare la piattaforma è un do to death qualcosina la ricavate sicuramente probabilmente qualche punto percentuale in più del rendimento precedente ma non vi aspettate miracoli perché miracoli non ne fa nessuno anche se siamo a Natale va bene ragazzi ciao a tutti ci rivediamo nel prossimo video e fatemi sapere se qualcuno di voi ha idee strane per strategie alternative rispetto a queste cose ciao